La via verde, il futuro, i portatori di interesse e le aspettative sull'infrastruttura, ancora incomplete e alle prese con questioni e problemi da risolvere mentre il tempo passa. Il 2024 per la costa dei Trabocchi, in fatto di presenze, non sarà ricordato come esempio virtuoso di rilancio turistico, ma gli operatori del settore mettono palla a centro e si concentrano per migliorare l'offerta, aggiungere soprattutto i servizi, puntare sulla pista ciclopedonale che continua a piacere anche tanto non solo nel panorama nazionale. Gli stati generali con istituzioni, associazioni e privati tutti attorno ad un tavolo in provincia di Chieti hanno dato un segnale positivo di unità di intenti con la voglia di accelerare su riqualificazione delle ex stazioni, manutenzione dell'infrastruttura, la difesa dall'erosione per completare i tratti mancanti. Molte proposte sono arrivate dalle associazioni di categoria. L'APS i Trabocchi ad esempio ha avanzato la richiesta di gestire le strutture destinate in parte ai servizi igienici, ancora vuote ed abbandonate. La parola d'ordine? Quella di garantire nuovi servizi e nuove offerte. Adagisa Bolchini del direttivo. Noi abbiamo portato la richiesta della gestione dei bagni, servizi che giustamente ci sono già, però hanno delle aree dove si potrebbero mettere dei piccoli, delle piccole officine, si possono mettere dei piccoli bar, servizi, punti informazioni che comunque servono e dare servizi, più servizi sulla via verde. Insomma tutto quello che al momento non c'è e si deve comunque fare. Quindi mancano i servizi, però ci sono altri nuovi ancora da risolvere, via verde che non è completa, le extazioni, la manutenzione. Sì, ce ne sono tanti, però a noi si chiede anche di portare avanti almeno quello che già c'è e poi magari in futuro vedere di ottenere tutto, di portarla a una cosa veramente bella che già è diciamo a livello visivo, abbiamo una costa bellissima, però abbiamo bisogno di tanti servizi, di tante cose che non ci sono. Ecco, i portatori di interessi dopo questa riunione si sono sentiti più sollevati, avete avuto delle certezze o no? Oppure ci sarà ancora da aspettare? Sì, allora sì perché ci è stato detto che si farà un altro tavolo dove tutti i portatori di interesse verranno invitati e ognuno potrà esporre le proprie esigenze. Per cui adesso aspettiamo quest'altro tavolo e vediamo un pochino cosa succede in futuro.